Massimo Ranieri ha preso una decisione davvero importante per la sua vita in seguito ad un grave rischio. Ecco cosa è successo al cantante italiano tra i più amati di sempre. Massimo Ranieri, icona della musica italiana, ha incantato generazioni con la sua voce carismatica e le sue interpretazioni emotive. Nato a Napoli come Giovanni Calone, ha abbracciato il nome d'arte che lo ha reso celebre negli anni 70. Oltre alla musica, la sua carriera si è estesa al teatro e al cinema, dimostrando una versatilità artistica che lo distingue nel panorama culturale italiano. Ranieri continua a essere un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, amato per il suo talento e la sua capacità di connettersi profondamente con il pubblico. Il celebre cantante italiano, ha condiviso un drammatico episodio della sua vita, legato a gravi problemi di salute che lo hanno visto protagonista. Tutto era cominciato con un dolore lancinante allo stomaco, ha raccontato Ranieri, rivelando come quel dolore fosse in realtà il sintomo di una seria condizione medica. L'artista si trovava in albergo, dopo una lunga sessione in sala di registrazione, quando ha avvertito i primi segnali. Inizialmente attribuì il malessere allo stress e alla stanchezza, ma la situazione peggiorò rapidamente. Massimo Ranieri, il racconto della terribile esperienza, ansia e paura Nemmeno 24 ore dopo, ero su un tavolo operatorio, con il terrore di non risvegliarmi, ha detto Ranieri, descrivendo il suo stato di ansia e paura nel momento in cui si è reso conto della gravità del suo stato. La diagnosi fu di diverticolite acuta, una condizione che può portare a complicazioni severe come la peritonite, se non trattata tempestivamente. Ranieri ricorda di aver subito l'asportazione di 20 cm di intestino, ormai necrotico. Fortunatamente, la sua ripresa fu rapida. Ai primi di maggio, ancora con i punti di sutura, tornai a Napoli per festeggiare il compleanno con mia madre. Un mese dopo, era già sul palco a Siracusa, cercando di mettere alle spalle l'episodio. Nonostante la guarigione, il rischio di altre complicazioni rimaneva. Infatti, anni dopo, Ranieri si ritrovò nuovamente sotto i ferri a causa di aderenze che avevano causato ulteriori dolori. Questa volta, l'intervento avvenne dopo una serata ad Ischia, segnata da un pasto leggero e una corsa in aliscafo che riportò i sintomi al centro dell'attenzione. Massimo Ranieri. La decisione dopo il grande spavento. Dopo questi episodi, Ranieri ha adottato uno stile di vita più sano, riducendo il fumo e migliorando la sua dieta. L'artista ha enfatizzato l'importanza di un'alimentazione ricca di pesce e verdure, essenziale per mantenere l'intestino pulito, mentre la carne bianca è consumata solo moderatamente. Il cantante ha quindi dovuto dire addio alla carne rossa. Ha anche incorporato l'attività fisica nella sua routine, facendo della box un nuovo hobby che gli offre benessere fisico e mentale. Queste esperienze hanno segnato profondamente la vita di Ranieri, non solo fisicamente, ma anche nella sua visione della salute e del benessere. Il suo racconto serve come monito sull'importanza di ascoltare il proprio corpo, e di non sottovalutare i segnali che esso può inviare, sottolineando come la prevenzione e una corretta gestione dello stile di vita siano fondamentali per affrontare malattie potenzialmente gravi come la diverticolite.